Eccoci dalla North Arena Golden Score, in pratica in questo momento ogni punto, ogni azione volitiva può essere premiata, intanto finiscono a terra, attenzione, vengono separate, c'è l'intervento dell'arbitro, l'avevamo vista brutta per un momento, non c'è stata continuità però nell'azione della giudocca del Lussemburgo, la Müller che si oppone a Rosalba Forciniti. Parlamo sette lingue, tra dialetti e mali sangue, aum oa, aum oa, aum oa, popolo di briganti, siamo tutti imperatori, schiavitisti troppi infami e ti lavenna di scrittori, aum oa. Aum oa, aum oa, aum oa. So le ce le mari li volo in questa città, stiamo tra loro, ma domate, ne voglia di fare, c'è la duccio, non ci amma, faccia, abbiamo già parlamo. So le ce le mari li volo in questa città, stiamo tra loro, ma domate, ne voglia di fare, c'è la duccio, non ci amma, faccia, abbiamo già parlamo. Rosalba Forciniti regala questa soddisfazione allo sport italiano e vincitrice del bonus. Ronzo categoria 52 kg. Con nessuna mea cuscita, lì fu una stiera buca aperta, ci venni sulla scimoni, con nessuna tu stibona, meglio che con l'animale, perché non si paga ma si fredda.